ciao amici come state tutto bene allora io sono a marene per la strada gustando e siamo ritornati dalla vacanza faccio così perché c'è il sole si è ritornati dalla vacanza in realtà una vacanza molto piovosa e siamo però già in pista per riprendere i vari lavori oggi si mangia e si cammina in realtà io non cammino e non mangio ma parlerò solo vabbè mangerò più tardi e camminare forse anche più tardi detto questa è una bella manifestazione che magari ci consentirà di parlarne anche martedì mattina nella nostra diretta delle 9 30 dove parleremo sì magari di questi eventi dove si mangia e dove si cammina insomma se mai avete partecipato quale vi è piaciuto e magari siete anche tra le 2300 persone che sono ma sono passati qui a marene nel caso avreste dovuto farvi riconoscere assolutamente sì va bene vi bacio e vi abbraccio intanto facciamo una cosa non si cammina non si mangia ma si corre perché perché la ginnastica arriva anche per il patrio un bacio vado perché mi tocca lavorare sotto questo sole e meno male però i ladri di biciclette cantavano sotto questo sole è bello pedalare ma noi andiamo a camminare e a mangiare ciao